Il tesoro di Davide Nelle trasmissioni precedenti abbiamo avuto la possibilità di meditare fino al Salmo numero 3 In questa occasione andremo a leggere il Salmo numero 4 Cercando quelle gemme, quei gioielli che noi intendiamo raccogliere per mettere in luce questo tesoro Così come è stato definito da uno dei più grandi predicatori dell'Ottocento Tale Spurgeon che il libro dei Salmi è il tesoro di Davide Benché Davide non abbia composto interamente tutti i Salmi che compongono il libro Bene, siamo qui anche con Federica che ci aiuta e ci assiste con le sue ricerche Un saluto a tutti i nostri telespettatori E naturalmente andiamo a prendere in esame il testo procedendo appunto con la lettura del Salmo e del Salmo numero 4 Federica ci aiuta, ci assiste con la sua bellissima voce Ma non soltanto, anche con le ricerche che ha fatto per approfondire i testi Soprattutto raccogliendo commenti, meditazioni di predicatori, di pastori che sono vissuti nei secoli scorsi Bene, allora procediamo con la nostra lettura con il testo del Salmo 4 Non altro che intitolato al capo dei musicisti Perché non vogliamo dimenticare che il Salmo è anche un momento di celebrazione, un momento di lode Un momento in cui questi testi, benché poetici, benché profondamente ricchi di significati spirituali Però venivano anche usati nelle celebrazioni, quindi nella liturgia attraverso il canto e attraverso la musica Possiamo procedere alla lettura del Salmo numero 4 Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera O figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria Fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna Sappiate che il Signore si è scelto uno che egli ama Il Signore mi esaudirà quando griderò a Lui Tremate e non peccate Sui vostri letti ragionate in cuor vostro e tacete Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore Molti van dicendo, chi ci farà vedere la prosperità? Oh Signore, fare splendere su di noi la luce del Tuo volto Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano Quando il loro grano e il loro mosto abbondano In pace mi coricherò e in pace dormirò Perché Tu solo, oh Signore, mi fai abitare al sicuro Bene, naturalmente noi andremo a raccogliere poi singolarmente questi versetti che sono stati letti e che nell'insieme sicuramente non riescono il lettore, colui che si accinge alla lettura del Salmo non riesce naturalmente a raccoglierne pienamente il significato un po' come quando ci accostiamo ad una mensa ben fornita di tanti cibi piacevoli beh, ci vuole il tempo per riuscire a gustare singolarmente le cose che ci piacciono e andiamo al primo versetto dove c'è questa invocazione di Davide, del re Davide quando io grido rispondimi, oh Dio della mia giustizia perché? Perché quando io ero indistretta Tu mi hai messo a largo ecco, allora, oh Dio, abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera Su questo verso sicuramente noi possiamo riconoscere la preghiera di chi è abituato a ricevere il soccorso di Dio come diceva anche il predicatore che io avevo citato poc'anzi Spurgeon diceva noi dobbiamo considerare che l'iddio che già ci ha tirato fuori dai guai sei volte non ci lascerà la settima volta in balia di noi stessi come per dire chi partecipa a questa scuola, è vero, di confidenza e di fiducia nel Signore si abitua ad essere anche da Dio liberato quindi abbiamo detto è una invocazione abbiamo detto è anche una preghiera e andiamo a fare qualche riflessione sul concetto di preghiera su questo strumento che il Signore ci ha dato per comunicare personalmente e direttamente con Lui e io immagino che Federica abbia trovato nelle sue ricerche qualche spunto su questa parte del versetto su questo momento della preghiera sì, un'illustrazione molto esauriente ci è data da Robert Lyton che è un predicatore del Seicento che ci illustra sapientemente il valore che Dio dà alla preghiera e gli scrive il grande autore della natura e di ogni cosa non fa nulla in vano non ha istituito questa legge e se posso esprimermi così l'arte di pregare come cosa vana e insufficiente al contrario egli è la dota di una meravigliosa efficace quella di produrre le conseguenze più grandi e felici egli desidera che la preghiera sia la chiave in grado di aprire tutti i tesori del cielo egli l'ha costituita in modo tale da essere come una potente macchina per mezzo della quale noi possiamo con un lavoro facile e piacevole liberarci dalle più terribili macchinazioni del nostro nemico come pure con uguale facilità attirarci quel che è più profizio e vantaggioso cielo e terra e tutti gli elementi ubbidiscono e servono a coloro le cui mani sono più spesso elevate verso il cielo nella preghiera sì, tutte le opere e soprattutto cosa maggiore importante tutte le parole di Dio le ubbidiscono ecco qui sicuramente chi impara a pregare impara a conoscere la grandezza della misericordia della provvidenza e dell'amore di Dio e solo attraverso questo sentiero che è un sentiero per molti versi sconosciuto ma che se il credente impara ad esplorarlo e a viaggiare su questo sentiero trova quelle consolazioni che sono descritte nella scrittura e che ci sono state così brillantemente anche esposte ora io vorrei passare alla lettura del verso successivo che è il verso 2 e ci dice fino a quando voi amerete la vanità e fino a quando andrete dietro alle menzogne ora questo è naturalmente un potremmo dire un momento forse un po' polemico polemico nei confronti di chi di chi non si ostina a non ascoltare a non voler onorare rispettare la verità ma piuttosto ama andare dietro la vanità e seguire piuttosto che la verità seguire le menzogne ora su questo concetto molti uomini di Dio si sono soffermati per dare il giusto valore il risalto al concetto della verità e a non lasciarsi trasportare dalla vanità e su questo verso mi farebbe piacere anche capire se Federica ha qualcosa da proporci una riflessione molto interessante di Crisostomo uno dei padri della chiesa risalente quindi al 300 al terzo secolo che è il quale dice se io fossi abbastanza forte per predicare un sermone al mondo intero raccolto insieme come un solo uditorio e se avessi qualche altra montagna come mio pulpito dalla quale poter abbracciare con un sol colpo d'occhio tutto il mondo e fossi fornito di una voce d'ottoni una voce tanto forte quanto le trombe degli arcangeli affinché tutto il mondo mi potessi udire io sceglierei di predicare su un solo e unico testo quello che si trova nei salmi e che dice o uomini mortali fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna direi è sublime questa immagine di Crisostomo che immagina questa predicazione universale fatta su un alto mondo rivolta a tutti gli abitanti della terra e l'imbarazzo della scelta di un testo da poter predicare e poter meditare di fronte a un uditorio così vasto bene per Crisostomo il problema non c'era il testo che avrebbe predicato era proprio questo qui del salmo il versetto 2 o uomini mortali fino a quando amerete la vanità e fino a quando andrete dietro alla menzogna ma non di meno anche il verso numero 3 è un'illustrazione del favore che Dio rilascia e concede ai suoi figli coloro che hanno scelto di appartenergli ora sul concetto dell'appartenenza a Dio possiamo naturalmente soffermarci e riflettere il verso 3 infatti dice sappiate che l'Eterno si è appartato qualcuno uno che egli ama quindi l'Eterno mi esaudirà quando io griderò a lui che presunzione verrebbe immediatamente da replicare è vero soprattutto coloro che non riescono ad intendere il profondo significato di questo versetto dice l'Eterno si è appartato uno che egli ama sì perché nella comunità dei credenti possiamo sicuramente immedesimarci nel greggio possiamo immedesimarci nel concetto della chiesa possiamo immedesimarci nel concetto della collettività ma non dobbiamo dimenticare che agli occhi di Dio ciascuno di noi è uno ed è uno solo un essere unico ed irripetibile e in questa misura il Signore desidera entrare in relazione con i Suoi figli ecco perché ciascuno di noi può avere un rapporto diretto e personale con il Signore ciascuno di noi può sentirsi un eletto un prescelto ciascuno di noi può sentirsi uno che Dio si è appartato e questo è il concetto della elezione uno dei padri della chiesa origene paragonava i credenti a delle gemme a zaffiri e a cristalli perché? perché dice Dio li chiama come una sua particolare proprietà Dio se li ha scelti affinché potessero essere appartenenti a Lui anche nel Vangelo naturalmente più in avanti l'Evangelista Luca citando sicuramente facendo riferimento anche a questo concetto dell'elezione dice che Dio farà giustizia ai Suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui e sarà pronto ad esaudirli e a risponderli sul concetto della elezione possiamo dire che una teologia degli anni tra il Settecento e l'Ottocento era molto ma molto diffusa nelle chiese soprattutto ponendo un'enfasi significativa sul concetto della elezione e naturalmente Spurgeon che è vissuto in quei tempi e noi spesse volte facciamo riferimento a Lui per l'abbondanza delle sue riflessioni e dei suoi commenti ha sicuramente espresso con abbondanza la ricchezza di questa elezione Federica puoi eventualmente aiutarci ad intendere qual è stata la meditazione e la riflessione di Spurgeon su questo testo certo è necessario ripetere la medesima cosa i pei sono gli eletti di Dio e a causa della grazia che hanno ricevuto e che le ha distinti dagli altri essi sono considerati qualcosa a parte dagli altri uomini l'elezione è una dottrina che gli uomini non rigenerati non sopportano eppure essa è una verità gloriosa una verità che dovrebbe confortare il credente quando è tentato l'elezione è garanzia di completa salvezza e un'argomentazione vittoriosa al trono della grazia gli eletti del Signore non saranno condannati né il loro grido rimarrà privo di risposta Davide era re per decreto divino e noi siamo il popolo del Signore in ugual modo diciamolo pure in faccia al nemico dichiariamogli che essi stanno combattendo contro Dio e contro il destino quando si ostinano a cercare di distruggere la nostra anima o bene amati quando vi ginocchiate il fatto che voi siete appartati come il tesoro particolare di Dio dovrebbe infondervi coraggio espirarvi nel pervore e nella fede dato che Egli ha scelto di amarci Egli non può far altro che esaudirci certo questa immagine del tesoro ci riscalda il cuore perché ci sentiamo di appartenere a questo tesoro eletto a questo tesoro prezioso ma questa immagine del tesoro è stata più volte ripresa è vero dalla riflessione dei nostri predicatori che più o meno erano anche vissuti precedentemente a Spurgeon hai qualche riferimento Federica a proposito? riprende il tema della preziosità degli eletti dei vantaggi che Dio riserva loro anche Thomas Watson che è un predicatore del Seicento il quale a riguardo scrive le persone pie sono rare i pie sono preziosi per questo sono appartati da Dio sappiate che l'Eterno si è appartato con uno che gli ama noi mettiamo da parte cose preziose i pie sono appartati da Dio come il suo speciale possesso come un giardino di delizie come un suo diadema regale i pie sono la gente onorata della terra sulla quale egli ripone tutta la sua affezione sono pregiati al pari del loro fino doppiamente raffinato essi sono la gloria della creazione ecco allora questa preziosità è una preziosità che ci riconosce e ci riconosce Dio il paterno estimatore di coloro che gli appartengono andiamo alla lettura del verso successivo che è il verso 4 tremate non peccate e ragionate nel vostro cuore sui vostri letti e tacete anche in questo caso c'è questa pausa di riflessione di meditazione che noi abbiamo già citato in altre occasioni che è il Sela quindi ragionate nel vostro cuore sui vostri letti e tacete questa parte del Salmo ci induce a questo soliloquio a questo parlare a noi stessi che è qualcosa di salutare per la vita del credente spesse volte più avanti troveremo in altri salmi anima mia benedici all'eterno cioè questo parlare a se stessi questo cercare di trasmettere a noi stessi concetti parole riflessioni che poi sono utili e sono salutari per la nostra vita il profeta Geremia in un testo molto conosciuto all'interno delle chiese dove si legge e si leggono anche i testi dell'Antico Testamento dice è cosa buona aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno aspettare e aspettare in silenzio mi farebbe piacere sapere e qui mi rivolgo a Federica che è brava con le sue ricerche che cosa commenta invece Spurgeon su questo testo si ti leggo subito il suo commento al riguardo è certo la mancanza di riflessione ciò che rende gli uomini così folli tanto da disprezzare Cristo e odiare la misericordia o se solo placassero le loro passioni e tacessero allora nel solenne loro silenzio essi passerebbero in rassegno il loro passato e mediterebbero sul loro inevitabile destino un uomo riflessivo sarebbe abbastanza sensato da scoprire la vanità del peccato e l'inconsistenza dei valori di questo mondo fermati o frettoloso peccatore fermati prima di fare il tuo ultimo salto va sul tuo letto e rifletti sulle tue vie chiedi consiglio sul tuo guanciale e lascia che la quiete della notte ti istruisca non gettare via per nulla la tua anima lascia che la ragione ti parli fa tacere per un po' il mondo rumoroso e lascia che la tua povera anima ti implori solo a riflettere prima che tu suggelli il tuo destino e la rovini per sempre o peccatore fermati a riflettere sulle parole di un sacro poeta quindi l'esortazione è quella di trovare il tempo per fermarci oppure riuscire a fermare il nostro tempo per questa seduta di terapia spirituale per la nostra anima proseguiamo con la lettura del testo e qui scopriamo la ragione per la quale il salmo 4 è stato anche definito il salmo della sera per un versetto che è sicuramente benefico per la calma per la pace per anche la conclusione di una giornata nel momento in cui ci apprestiamo ad andare nelle nostre stanze da letto e dice il testo in pace io mi coricherò in pace dormirò perché tu solo o eterno mi fai abitare in sicurezza ora una coscienza tranquilla è una buona compagna di letto io immagino che molti per molti il momento di andare a letto è un momento drammatico proprio perché non hanno e non trovano pace nel riposo e invece il credente che vive tutto il giorno nella pace prodotta dalla fede nel suo nel proprio Dio nel proprio Signore la sera la sera va con maggiore fiducia a chiudere i propri occhi e proprio come dice questo testo in pace io mi coricherò e in pace io mi addormenterò ora su questo testo immagino che molti vorrebbero scoprirlo questo segreto come si fa ad andare a dormire in pace senza i tranquillanti senza i narcotici senza gli stordimenti senza gli aiuti che talvolta possono venire dalla medicina o anche dall'erbe e allora cosa dicevano a proposito di questo i nostri padri predicatori del seicento sì ho trovato un consiglio pratico di R. Scudder che è uno scrittore del 1600 che nonostante quindi risalga al 1600 ci lascia questo consiglio che è attuale ancora oggi per affrontare la notte ci dice per questo è molto utile la sera che tu rinnovi e confermi la tua pace con Dio per fede e per la preghiera raccomandandoti a lui tramite essa con rendimento di grazie prima di andare a letto solo allora potrai abitare in sicurtà fatto questo dopo esserti spogliato e posto a letto prima di dormire è bene ragionare nel tuo cuore se possibile potrai prendere sonno con qualche celeste meditazione e allora il tuo sonno sarà più dolce i tuoi sogni pochi o più gradevoli il tuo capo sarà maggiormente colmo di buoni pensieri e il tuo cuore avrà una disposizione migliore quando ti svegli sia nella notte come al mattino sì ora la riflessione naturalmente è maggiormente utile in tempi come quelli che noi viviamo dove soltanto riuscire a trovare un po' di silenzio è qualcosa di realmente difficile per il rumore che ci circonda e ci circonda purtroppo talvolta anche di notte per i televisori che ormai sono diventati i compagni della sera della notte e di tutta un'intera giornata per la mancanza di quella serenità che ci consente di chiudere i nostri occhi e di vivere serenamente le ore del riposo per una mente che spesso è aggravata da preoccupazioni da pensieri da turbamenti da una vita che ormai è sulla bocca di tutti questo termine inglese che nasce appunto dalla psicologia ma che ormai è diventato patrimonio un po' di tutti questo stress che in qualche modo ci vince ci affligge però bellissime le parole di Spurgeon bellissime le parole che ha letto Federica su Harry Schluder però non possiamo mettere in un piano inferiore le parole che disse il nostro maestro il signore Gesù venite a me voi tutti che siete stanchi venite a me voi tutti che siete aggravati perché io darò riposo e riposo alle anime vostre quando noi riusciamo ad intendere a comprendere il senso di queste parole allora potremmo associarci alle parole del re Davide che era un uomo indaffarato impegnato aveva compiti di governo aveva compiti militari aveva tante occupazioni ma ciò nonostante la sua fede era la compagna delle sue notti che gli dava sicurezza e pace ora mi farebbe piacere Federica se potessimo avere anche un altro contributo per continuare a rafforzare questo concetto della pace che è possibile trovare nel riposo attraverso la propria fede sì ho trovato un interessante commento di George Horn che è un predicatore inglese del settecento il quale nel suo commentario ai salmi a proposito di questo versetto scrive beato quel cristiano che la notte sulla base di questo versetto avendo affidato se stesso al suo letto come se fosse la sua tomba alla fine con le stesse parole si affiderà alla tomba come se fosse il suo letto attendendosi a tempo debito di rialzarsene e di cantare un inno mattutino con i figli della resurrezione naturalmente scopriamo il coraggio il coraggio di un predicatore il coraggio di un commentatore che non ha difficoltà a dire che o possa essere il sonno di una notte oppure possa essere il riposo eterno per il cristiano la differenza sostanzialmente non c'è perché in tutti i casi ci sarà un risveglio il risveglio che ci può portare ad una nuova giornata e quindi a nuove occupazioni oppure il glorioso risveglio che ci porterà in una nuova vita chi ha fiducia nel Signore chiude i suoi occhi e riposa riposa in Dio benissimo ci apprestiamo alla conclusione della nostra riflessione sul Salmo 4 e vogliamo darvi appuntamento per la prossima trasmissione del tesoro di Davide io vi saluto e vi do appuntamento ad una riflessione ad una meditazione sul Salmo 5 con noi ci sarà sempre Federica che ci aiuterà ad avere riflessioni e contributi vi ringraziamo un saluto a tutti voi di Davide